Ciao ragazzi, bentornati in questo video Vabbè bentornati un corno Vabbè comunque Ciao ragazzi, bentornati in questo video Sul mio canale Mi dispiace che oggi non potrà uscire nessun video Perché praticamente Avevo intenzione di fare un video con un mio amico A un certo punto il mio amico mi ha chiamato Mi ha detto che l'audio non si sentiva così Ero andato a vedere io per sicurezza E mi dispiace ma Visto che non si sente l'audio Non ha senso caricare un video Se poi non si sentono i contenuti E altre cose del genere Ma non vi preoccupate Che i video che vorrò fare Lo farò domani Non so se lo registrerò adesso o domani Però comunque uscirò domani Perché non carico i video alla sera Poi se ci riesco al massimo alle 21 È un altro conto Però mi dispiace di questo piccolo inconveniente E mi dispiace anche che ho fatto questo piccolo conveniente Anche l'altra settimana E invece di far caricare il video Sabato Come faccio sempre Li ho caricati Li ho caricato lunedì Ma non vi preoccupate Domani uscirà O oggi alle 21 O domani uscirà il video Mi dispiace ancora che io non sia potuto Riuscire a farlo oggi Per favore Perdomanatemi E Niente ragazzi Mi voglio bene Scusate per questo minuscolo errore La prossima settimana Per domanarmi Porterò due video Di due contenuti Che Da quanto ho visto Vi piacciono E niente Noi ci vediamo Al prossimo video Cioè Domani O oggi alle 21 Con Chi sono Adesso Le 19 15 14 Un attimo No Le 19 10 Comunque Spero di riuscire a caricare il video Alle 21 Altrimenti Lo registrerò domani E Domani mattina E Lo caricherò su youtube Mi dispiace ancora E Niente Non vi posso Non vi posso dire altro Che Augurarvi Non posso fare altro Che augurarvi Una buona serata Un buon pranzo E Una buona cena Un buon tutto E Niente Ci vediamo al prossimo video Ciao